E a Milano questa mattina è arrivato il ministro dell'interno Piantedosi per fare il punto sulla sicurezza in prefettura insieme al sindaco Sala e alle forze dell'ordine dopo gli ultimi casi che hanno molto preoccupato il capoluogo Lombardo, soprattutto in alcune zone della città, in particolare alla stazione centrale. Piantedosi non ha parlato di emergenza ma ha assicurato l'arrivo di nuovi uomini. Aveva attirato la sua vittima in una trappola, una 56enne italiana senza fissa dimora conosciuta in zona stazione centrale di Milano. Lo scorso 29 aprile le aveva offerto un posto dove trascorrere la notte una tenda in piazza Carbonari, poi la violenza sessuale. L'uomo è stato arrestato oggi, si tratta di un 32enne somalo in possesso di un permesso di soggiorno di protezione sussidiario. Il suo caso è stato citato più volte dal ministro dell'interno, Piantedosi, oggi a Milano per un vertice sull'ordine della sicurezza in prefettura, alla presenza del sindaco Sala, del questore ai vertici delle forze dell'ordine. Il ministro spiega come tutto ciò che genera preoccupazione e paura nella popolazione sia un problema per il quale c'è la massima attenzione, ma sottolinea anche come la percezione dell'emergenza sicurezza non sia supportata dai numeri. Piantedosi cita il 2019 come anno di paragone prima della pandemia. In zona stazione a Milano i reati tipici, rapina, aggressione e violenze fisiche sono calati del 39%. Il ministro esibisce l'arresto del 32enne somalo come esempio per dimostrare come chi delinque a Milano viene poi assicurato la giustizia. Milano è la città dove si denuncia di più che in altre zone d'Italia ed Europa. Altro dato importante, noi abbiamo una percentuale qui a Milano, potrei dire anche in altri contesti anacoli, quasi del 100% dell'assicurazione a giustizia degli autori di questi reati. Dal confronto con il sindaco Giuseppe Sala emerge la promessa di intensificare la sicurezza nella zona della stazione all'esterno ma anche all'interno dello scalo ferroviario così come nei centri commerciali. Da sindaco ha spiegato Sala, devo difendere il valore della mia città, la narrazione sulle violenze a Milano mette in cattiva luce il capologo Lombardo, ho chiesto un presidio maggiore della stazione e le aree antistanti. Non è che io chiedo più forze di polizia perché così con uno slogan tagliamo corto, è perché ha un'importanza. Piantedosi ha confermato nuovamente come abbia chiesto alle prefetture di Milano, Roma e Napoli controlli maggiori proprio nelle stazioni, al centro del tavolo non sono le violenze sessuali ma anche un altro tema spesso collegato, la gestione dell'accoglienza come il caso dei minori non accompagnati. Sono 1.500 in tutto, di questi 1.200 sono censiti, alti 300 non si fanno trovare, il 98% sono maschi con un disagio personale grave, il tema è delicatissimo.